Siamo molto orgogliosi di essere arrivati in tempi così rapidi a dare una risposta alle persone, ai nostri soci e alle persone che vivono in questo quartiere. A Ponte Aggreve riapre la galleria commerciale dopo l'incendio che quattro mesi fa ha distrutto la copertura del centro Unicop. Ancora dovremmo aspettare per fare la spesa, ma i commercianti dei negozi oggi hanno potuto rialzare le saracinesche. Quello che è avvenuto ha messo in grande difficoltà tutte le attività commerciali di questo luogo, ma non solo di questo intero pezzo di città. Oggi ripartiamo, ci riconquistiamo un pezzo di normalità davvero importante. Un tempo record per la riapertura di questo centro che è un punto di riferimento per i cittadini. Grazie ora alla parte della tenso struttura che ha comunque dato in estate un servizio alla cittadinanza e alla riapertura di questa galleria, ecco che si riapre appunto un pezzo di questo importante centro commerciale che poi nei prossimi mesi continuerà a lavorare per arrivare alla riapertura totale. Grazie. Grazie. Grazie.